E questo è il salotto di Pop-Up Style, ma questa volta non siamo in compagnia dei giovani competitor, ma di più! Abbiamo un campione e l'organizzatore, colui che in questo momento è stanchissimo, ma soddisfatto perché stiamo vedendo uno spettacolo straordinario! E lui è il campione! Ciao a tutti, è una bellissima esperienza viverla da giudice, perché da competitor si sentono molte pressioni in più, invece da giudice è bello, riesco a godermi bene ai ragazzi. Stai volendo solo dei benefici della competizione, in questo momento sei fresco, bello, tranquillo. Sì, tutto il resto, poi questa location è fantastica, voi state animando perfettamente la giornata, quindi stiamo benissimo. E siamo state brave, anche perché noi prendiamo le emozioni proprio subito dopo la competizione e arrivano che ancora hanno l'adrenalina! Potrebbero continuare a lanciare bottiglie e continuare la loro esibizione! Allora invece adesso passiamo la parola a lui, Claudio, il nostro Claudio! Claudio, siamo quasi alla fine della prima competizione, quella che selezionerà i ragazzi, perché domani, ricordiamolo, ci sarà la finale! Esattamente, ci sarà la finale, quindi oggi ci godiamo le qualificazioni che sono altrettanto belle quanto le finali, è una giornata bellissima, i ragazzi sono felicissimi, l'evento sta riuscendo benissimo, quindi che dire, finalmente a Messina, orgogliosissimi di quello che stiamo facendo! E' stanchissimo, me lo guardano, che è bombardato da tutti i ragazzi! Finalmente a Messina, ricordiamolo, perché finalmente a Messina? Perché questa è la prima volta che questa competizione viene portata qui in Sicilia, ma soprattutto nella nostra Messina! Quale orgoglio! Grazie Claudio per aver portato anche questo prestigio! Ma qualche altra domandina te la faremo e te la faremo allo sociale! Eh certo! Ti sembrava molto! Ovviamente! Tu pensavi di scansartela oggi, ovviamente! No, vorremmo capire un attimino quanti chili hai perso in questa settimana, in buona sostanza, perché... Questi due mesi, io direi, in generale... Però l'ultimo è il tour de force, proprio, a mettere d'accordo tutti quanti, le mille telefonate da tutti i fronti, ovviamente, com'è andata un po'? Bene, nel senso è riuscito tutto bene, però ovviamente è stato stancante, ma la stanchezza non importa in questi casi, c'è talmente tanta soddisfazione che il resto non conta più, quindi va bene così, che ben venga e lo ripeteremo sicuramente! Perché lui in realtà si è affezionato ai nostri microfoni, quindi già sta mettendo le basi per le prossime occasioni! Allora, Dario, tu sei in giuria, quindi sicuramente è l'occhio che sta selezionando questi ragazzi, c'è qualcuno che ti ha colpito, senza dire il nome perché ancora è troppo presto per poterlo dire, c'è qualcuno che in modo particolare ti ha colpito o ancora aspetti qualcosina in più? Beh, al momento hanno fatto i semi pro, quindi, diciamo, è chi inizia a fare le prime competizioni, quindi spesso i ragazzi hanno il primo impatto con lo stage, è un po' difficile gestire l'adrenalina e l'emozione, Però in particolare c'è stato un ragazzo che mi è piaciuto molto su come ha comunicato, l'energia che ha trasmesso, che poi è fondamentale riuscire a trasmettere, comunque a collegarsi e a connettersi col pubblico che ti osserva, E quelle sono le emozioni più belle che può vivere anche il pubblico e quel ragazzo è riuscito a darle, quindi per il momento è un buon presupposto per... Quindi, attenzione, c'è qualcuno che già è interessante all'occhio del nostro Dario, ma Dario, quello che vogliamo spiegare magari a chi ci sta ascoltando, Cosa è che determina un professionista il più bravo? C'è un equilibrio tra corpo, esibizione e anche un po' di charme, perché lo charme è quello che comunque ti rende a 360 gradi la competizione, la competizione è, diciamo, migliore rispetto alle altre. Sì, sicuramente la parte personale, emotiva, di adrenalina e anche di carisma che il... Ad esempio, tu, quando ti esibisci, su che cosa punti? Sulla bellezza, sul modo di attirare l'attenzione, sulla stile, sulla tecnica, qual è il tuo punto forte? Perché secondo me ti vuole che tu ce l'hai. Bene, io, quello che mi divertiva di più e che vedevo che interagiva bene col pubblico era l'interazione con la musica, quindi cercare di gestire una coreografia che potesse comunicare anche tramite la parte musicale, quindi di interazione con dei movimenti che potessero portare delle emozioni per chi guarda, abbinando, diciamo, l'aspetto visivo a quello anche dell'udito. Ma senti, ma alla fine di tutto, ci rifai quel tuo movimento, quello sulle nocche, un attimino così, perché è bellissimo da vedere. E vedi che c'è la birra, però... Lo rifaremo magari al prossimo intervento. Un'altra cosa, io non ti lascio andare via, non vi lascio andare via, anche perché forse è l'unico modo per farvi riposare un attimino, perché è da quando avete iniziato che fate avanti e indietro, come tante formichine impazzite. Allora, se dovessimo fare un cocktail, dove mettere tutti gli ingredienti per una buona esibizione, vogliamo dire, in poco, diciamo, in poco tempo, quali sono gli ingredienti che servono per fare una buona esibizione? Alcol, una parte acida, quindi un limone, un lime, anche un ananas, un frutto acido. Si possono utilizzare anche degli aceti, come parte acida, e poi una parte dolce, che possono essere sciroppi, o di zucchero, sciroppi di frutta, e quindi il bilanciamento tra una parte acida, una parte dolce e una parte alcolica, nell'80% dei casi piace un po' tutti i palati e ti garantisce una buona riuscita. Bene. Claudio, invece, tu che sei, diciamo, l'organizzatore di questo evento, abbiamo visto alcuni dei tuoi ragazzi. Che emozione si prova dall'altro lato, a vedere i propri allievi? Eri emozionato, di la verità. È indescripibile. Io da anni, dal 2013, ho deciso di passare dietro le quinte, quindi di lasciare lo stage, passare da allenatore talent scout, alla ricerca di persone, di personaggi, quindi una grande... Quello che fai tu con noi in radio, non lo facciamo d'accordo. Un po' quello che facciamo noi con la radio, e la radio, proprio quando Claudio è venuto a proporci questo evento, diciamo, ci siamo subito resi disponibili, perché noi tutto quello che, diciamo, raggruppo il mondo dei giovani, che può essere la musica, che può essere il talento, anche in questo caso è un talento, possiamo parlare di vero talento. Assolutamente, talento, tanto allenamento, tanta passione, lifestyle lo chiamiamo noi, nel senso uno stile di vita vera e proprio. In questo momento il ragazzo che è uscito mi ha detto, ne voglio fare un'altra. Ed è questo il nostro stimolo reale. E quindi evidentemente questo lavoro ha dato dei buoni risultati, perché se i ragazzi vogliono ritornare e riprovare, evidentemente hanno superato sia la paura, perché noi li abbiamo visti. Tra l'altro sono tanti, molti giovani, quindi timidi, ma non solo. Quindi è la loro prima esibizione, quindi c'è anche un po' la paura di sbagliare. Qualcuno ci ha confessato che qualche errore è stato fatto, ma comunque quello è servito per poter fare la prossima esibizione e migliorarsi. Quindi nella vita c'è sempre anche questo piccolo spazio per poter andare avanti e migliorarsi in ogni situazione e questa è una di quelle. Noi vi diamo appuntamento con la prossima esibizione, vedremo quelli un po' più grandi, no? Quelli un po' più i pro, i professionisti. e vi diamo appuntamento qui a Pop-Up Style, io la Charlie, con il nostro campionettario e con il nostro grande organizzatore di questo evento qui all'Octopus, il nostro Claudio. A dopo!